Ciao, mi chiamo Nicola, mi chiamo Stefano, oggi facciamo un dolce tiramisu, per fare la tiramisu c'è bisogno di questo, biscotti, zucchero, espresso 12 tazzoni e un uovo per 500 grammi, 500 grammi di mascarpone, un poco di cioccolato in polvere, ora cominciamo si separa l'uova e il bianco dal rosso, adesso ora mettiamo il zucchero, uno, due, quattro, 5, metti il bianco dal rosso, metti il mascarpone con zucchero, metti insieme, continua a baterai Banne il bascotti nel caffè Banne il bianco Banne il bianco dal rosso, metti insieme, con del mascarpone Amava i bidors e i rolling stones, girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, il suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con i rolling stones, stop con i bidons. Ah, sembra nota buonissima. Sì, sì. E' un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. E' un'altra cosa, è un'altra cosa. Sì, adesso si mette il cioccolato. Peccato che non si può mangiare Dobbiamo aspettare due ore Sì, sì Dopo due ore si mangia Grazie, grazie Buon appetito Mmm, buon appetito Sì, sì Ciao 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 no che verrà felici ci faranno sono già negli occhi vuoi Occhi di ragazza Occhi di ragazza Lime Say this Say molto bene Molto bene Sì 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 Questa è un po' di risultato, è un po' di risultato, è un po' di risultato. A occhi di ragazza questo viaggio prima o poi sarà finito, una spiaggia vuota e senza mare. Grazie. Grazie.